Dirti una cosa Ariete, ci sono rimasto male su una cosa Su cosa? Prova a immaginare Ma che? E' una cosa tra me e lei Ma che c'entra con il festival? No, una cosa che... Una cosa che c'entra con prima C'entra con Federico C'entra con Federico Io lo so, ma ci sei rimasto male Ma proprio tanto Alle Iene Hai parlato di me alle Iene? No Hai parlato in un'intervista Hai detto che sei venuto al mio concerto e non volevi venirci Vabbè perché c'è, che ne so No, allora Hai detto che non volevi venire al mio concerto e tu avevate obbligato No, 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 no E' andata così Io avevo 13 anni Il tuo primo concerto E tu sei stato il mio primo concerto, ok? Tu sei stato il mio primo concerto Sì, il problema è che non voleva venirci No, ma poi mi sono divertita tantissimo Mi ricordo che stavi nella palla Era bellissimo, mi sono divertita un botto Però a 13 anni io volevo Grazie.